Onorevole Bonetti, prima Carlo Calenda, adesso qui lei. Veramente azione ci conta molto sulla candidatura del nostro sindaco all'europea? Ci contiamo molto perché Massimo Seri è una persona capace, competente, che ha dimostrato di sapere amministrare. Io la dico così, non è tanto Massimo Seri che si merita di andare in Europa, è l'Italia che merita di essere rappresentata in Europa da persone come Massimo Seri, che ha messo in campo in questa città, in questi dieci anni, una capacità di visione, del coraggio ambizioso di voler cambiare le cose, cambiarle in meglio, di farlo costruendo un gioco di squadra con il territorio e di farlo con la competenza di portare a termine i progetti. Lei in una visione di una nuova Europa ha parlato di un discrimine, quindi ci sono due posizioni diverse. Qual è quella che sostiene azione? Un'Europa grande, una grande comunità coesa, solidale, ma anche in grado di diventare una potenza, di guidare il percorso della storia tra le grandi potenze internazionali. È l'unico destino possibile per l'Europa, ma anche per noi stessi, per la nostra vita, per le nostre comunità, per i nostri comuni. Ci sono dei provvedimenti europei che preoccupano, per esempio i provvedimenti presi, potrei dire, contro la pesca, Fano è un porto peschereccio di notevole importanza e ha accusato dei problemi per quanto riguarda i provvedimenti europei. E poi c'è anche la questione delle case green, che preoccupa diverse famiglie. Ebbene, azione come intende superare queste difficoltà? Per esempio sulle case green noi abbiamo dato un voto contrario, siamo stati anche critici su alcune politiche che l'Europa ha messo in campo nell'ambito della pesca, dell'agricoltura, delle materie di sua competenza. Ma è esattamente l'esempio del perché questa Europa così non funziona davvero. Perché è un'Europa ancora non in grado di avere una politica condivisa. Se noi come Italia andiamo ai tavoli europei pensando di difendere il nostro interesse e pesarci contro gli interessi degli altri, alla fine pesiamo di meno e quindi decidono per noi gli altri paesi. Se invece noi riusciamo a costruire una strategia condivisa europea, nella quale il porto di Fano, i pescherecci di questo territorio, sono un pezzo dello sviluppo economico europeo, l'Europa tutta ha l'interesse di tutelare questi pescatori, questi territori, in una visione strategica condivisa e in una visione strategica anche di realizzabilità. Massimo Seri mancano ormai quasi 15 giorni all'appuntamento delle elezioni europee. Come vede la possibilità di dare un messaggio da Fano in Europa? Vivo con grande serenità perché l'obiettivo è quello di comunicare i valori di una politica seria, vera e di chi crede in questo caso di un'Europa che possa svolgere un ruolo importante. E dico per un'Italia più forte occorre un'Europa più forte, per i cittadini perché possa portare dei vantaggi e dei risultati significativi. Quindi l'appello che mi sento di rivolgere è quello di andare a votare perché troppa gente rinuncia a questo diritto e dare un'indicazione forte. Queste elezioni saranno uno spartiacque tra chi vuole un'Europa più integrata e chi vuole un'Europa più egoista. Io appartengo a quella che vuole un'Europa più integrata che possa svolgere un ruolo in questo scacchiere internazionale dove i singoli stati membri rischierebbero di essere superati e non svolgere un ruolo di fronte a tutto quello che accade. E chi come me viene da un'esperienza dei territori può portare un contributo importante, può rappresentare un territorio che troppo spesso non è rappresentato, portando una voce che è quella di far capire che gli obiettivi, anche quelli dell'agenda politica internazionale, il loro successo è determinato per oltre il 60% dai comportamenti dei territori, dei governi locali. E quindi penso che in queste istituzioni la presenza di chi viene da quelle esperienze sia importante, sia un valore aggiunto.